Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di family in vaneggia oggi per l'onomastico di carne che è stato a punta grossa l'avete anche visto ha scelto questo set apriamolo il video verrà un po' veloceggiato perché ci metterò tanto ecco prima bustina con le gomme ragazzi vedete e eccola tra bustina e le istruzioni e basta facciamoli mettiamo tutti i pezzi qui questi non si devono perdere assolutamente perché sono importantissimi non so se lo vedete nel video ma ci sono queste due cose che sono la visione di questo e uno è di riserva ma lo scato non lo buttare ci stanno i pezzi dentro, quelli di riserva ragazzi faccio una cosa gli pezzi qui li mettono tutto da una parte e i pezzi grandi li mettono tutto da una parte e i pezzi grandi li mettono tutto da una parte la macchina sei pronto per velocizzare carmine? ci vediamo alla fine? si ok ecco ragazzi il risultato guarda che bello guarda che bello questa cianca sono 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 ragazzi ora sta diventando matto tontica veramente ragazzi infatti l'ho finita mancano le ruote ragazzi per mettere il personaggio bisogna aprire il tettuccio si senza chiaramente scoccare tutte voglio aprire il tettuccio e poi metterlo andiamo a mettere le ruote tre due manca l'ultima ruota ragazzi 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 ecco finito le mostre track bravo bravo ragazzi è bellissima eccolo qui e nelle immagini può saltare può fare anche l'impennata quindi me la faccio ragazzi se questo video è piaciuto mettete un like grazie